Se non sai suonare nulla al pianoforte, dopo questo video, te lo prometto, ti do la mia parola, saprei suonare qualcosa al pianoforte. In questo brano suoneremo solo due accordi con la mano sinistra. O il Mi minore, ossia Mi Sol Si. Prova a suonarlo. Oppure il Si minore con un rivolto, cioè Re Fa Diesis Si. Mettiamo la mano destra sul Si con il mignolo sul Si. E suoneremo su ogni movimento due note, ma te lo faccio vedere praticamente.